li utilizziamo ormai tutti i giorni a tutte le ore e a tutte le età facile trovare anche i più piccoli prima di andare a nanna abbracciati ad un tablet piuttosto che ad un orsacchiotto l'uso del smartphone nei bambini più piccoli è assolutamente da sconsigliare perché non solo determina problemi di isolamento e di mancata diciamo socializzazione perché molti tendono a utilizzarlo come un gioco vero e proprio ma determina anche delle problematiche in relazione al sonno tutti i bambini che utilizzano la tv per più di due ore oppure gli smartphone nelle ore serali o i tablet nelle ore serali hanno un sonno più alterato non solo una deprivazione di sonno ma si è visto che il loro sonno è qualitativamente quantitativamente più alterato rispetto agli altri ma tutto questo ha ripercussioni durante il giorno sono bambini magari più irritabili più nervosi che sono difficili da trattare molto più disobbedienti molto più capricciosi e questo non viene riconosciuto dai genitori ma quanto dovrebbero dormire i nostri bambini in preadolescenza tra le 9 le 11 ore in adolescenza 8 9 ore possono essere sufficienti riguardo agli smartphone per esempio abbiamo fatto uno studio qualche anno fa in cui si vedeva che il passaggio dalla preadolescenza all'adolescenza era estremamente importante per l'utilizzo di questi dispositivi per cui noi dobbiamo in qualche modo fare una prevenzione già in preadolescenza per evitare che diventi diciamo normale l'utilizzo degli smartphone in epoca adolescenziale troppo spesso i ragazzi sono abbandonati a se stessi senza regole né limiti di utilizzo in età più avanzata il controllo dei genitori specialmente nella stanza da letto dei giovani è molto meno presente e conseguenzialmente il l'adolescente in particolare tende ad utilizzare lo smartphone nelle ore serali e notturne il problema non è solo quello della riduzione della produzione di melatonina perché oggi ci sono degli schermi che bloccano la luce blu che inibisce la produzione di melatonina ma il problema è quello dell'attivazione cognitiva nel senso che per rispondere magari all'interno di una chat io devo attivarmi cognitivamente e ritardo il mio orario di addormentamento da alcuni studi è emerso come i ragazzi che dedicano poche ore al sonno e molte ai videogiochi o alle chat incontrino maggiori difficoltà a scuola molti dei casi che noi vediamo di disturbi di apprendimento di disturbi da iperattività disattenzione o anche il bullismo addirittura sembrerebbe in qualche modo essere correlato alla deprivazione di sonno la deprivazione di sonno non viene considerata non viene sentita come la causa di tutti questi problemi in realtà se noi facessimo più attenzione al sonno del bambino si ridurrebbero molto questi problemi al durante le ore scolastiche quali consigli possiamo dare consigli che si possono ai genitori di controllare di più quello che succede nella camera del bambino o dell'adolescente si è assistito progressivamente ad una riduzione del controllo dei genitori sul sonno del bambino il sonno del bambino viene o del pre adolescenza o dell'adolescente viene gestito in prima persona da lui quindi non ci sono più i controlli dei genitori che spengono la luce ma è lo stesso pre adolescente adolescente che decide lui quando andare a dormire a livelli a live- aussercizioner a tutti i conoscenze